Ben ritrovati, telespettatori di Cilento Channel, all'appuntamento settimanale dedicato alla nutrizione e al benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Questa settimana ci parlerà di un frutto poco conosciuto, però dalle mille proprietà a quanto pare, il bananito. Allora, che cos'è? Spieghiamolo ai nostri telespettatori e poi anche le caratteristiche di questo frutto. Sì, allora, infatti abbiamo raccolto un po' l'invito di un telespettatore a parlare di questo frutto esotico che, come dicevi tu, è poco conosciuto, però molto spesso incominciamo a trovarlo nei banchi delle ortofrutticoli dei supermercati. È un frutto esotico, originario del Sud America e, come dice il nome, è un po' una miniatura del frutto più classico della banana. Come si può pensare? Si potrebbe pensare che sia un frutto geneticamente modificato o artificiale. In realtà non è così, è un frutto a sé stante, che è molto simile anche come caratteristica al frutto originario, cioè quello della banana. Si caratterizza, diciamo, soprattutto per una buccia molto più liscia, quindi di un colore giallo molto più chiaro, ma soprattutto per un gusto della polpa molto molto più dolce. 100 grammi apportano all'incirca 90 calorie, è molto ricco di sali minerali, come potassio, magnesio, calcio, fosforo e di vitamine. Soprattutto vitamina A, vitamina C e vitamina del gruppo B. Quindi come numero di calorie è molto simile alla banana, ma ciò che lo contraddistingue è che per 100 grammi, quindi per lo stesso apporto, ha molte micronutrienti in più. In effetti è molto ricco di potassio, quindi aiuta a contrastare la ritenzione idrica, a eliminare i liquidi in eccesso e a mantenere sotto controllo la pressione arteriosa. Contiene calcio e fosforo, che quindi sappiamo che sono importanti per l'apparato scheletrico, quindi aiutano a prevenire o a contrastare l'osteoporosi. Contiene vitamine B, quindi importanti per il funzionamento del metabolismo e per le funzioni cognitive del sistema nervoso. È molto digeribile, contiene anche fibre, quindi aiuta a regolare il transito intestinale. È molto indicato proprio per questa ricchezza di sali minerali e di vitamina, per esempio per gli sportivi o comunque in generale per chi pratica un'attività intensa. Contiene triptofano, che è un amminoacido essenziale, che è il precursore della serotonina, quindi l'ormone della felicità. Tutte queste caratteristiche ne fanno quindi un ottimo, ad esempio, spuntino da poter utilizzare all'interno della giornata. Ci sono anche delle controindicazioni per chi ne fa un consumo eccessivo? Non vi sono particolari controindicazioni, se non magari qualche possibile allergia personale, oppure per esempio si indica di solito per i diabetici, insomma di utilizzarlo comunque con cautela. Grazie dottore per i preziosi consigli, grazie ai nostri telespettatori. L'appuntamento torna la prossima settimana.